Buonasera, sono molto lieta di invitare questi relatori a parlare di un libro che mi è sembrato, devo dire, affascinante. Io sono un'archeologa, quindi dovrei esserci abituata a queste cose, però, devo dire, nell'ambito della moderna letteratura archeologica, spicca. Ho aderito quindi volentieri alla richiesta di Roberto Mercucci di far presentare qui alla Fondazione Besso questo volume, naturalmente in cui ho scoperto io, un amante della Sicilia, e vado spesso a fare vacanze in Sicilia, conosco come molti di loro il noto, una noto che è tutt'uguale, abbastanza, barocca, ma ha una vita prima, e di questo parleranno i nostri amici. Per primo do la parola quindi all'editore, Roberto Mercucci. Buonasera a tutti, grazie a Gilda della introduzione, siamo ospiti tuoi e della Fondazione, ringrazio dell'accoglienza che ci avete dato. Io faccio solo da introduzione, quindi parlerà per primo Vittorio Sgarbi, che tutti conoscete e forse non c'è bisogno di una... ma io mi sono preparato un tre righe, Vittorio, se posso permettermi di introduzione. Quindi è un critico e storico dell'arte, accademico di San Luca, ha curato molte mostre in Italia e all'estero, è sottosegretario alla cultura, che è una parte importante, e i complimenti perché è sindaco di Arpino. Presidente del MART di Roveretto e con l'ERMA abbiamo recentemente fatto due cataloghi con il MART. e inoltre Vittorio Sgarbi è presidente della Fondazione Canova di Possagno, presidente di Ferrara Arte, commissario per le arti di Codogno, presidente del MAG, che è il Museo dell'Alto Garda, e presidente della Fondazione Cavalini Sgarbi. Prego, onorevole Sgarbi, ho finito per adesso. Ringrazio il letteralmente vecchio amico Marcucci, che per almeno 40 anni ho ritenuto più giovane di me, e invece adesso che i miei anni avanzano so che lui è più vecchio di me, ma si mantiene con una freschezza che è propria del suo rapporto stabile con l'archeologia. Abbiamo visto apparire due scheletri recentissimi adesso a Pompei che ci fanno capire che sono morti ieri. Pompei si presenta per noi come il luogo dove la morte è senza tempo. Sono morti per sempre, ma sono morti in ogni momento, quando li rivediamo davanti a noi. Anche alla mostra Distante l'Eternità, voluta dal direttore Osanna e Berger, si apre con due corpi morti di Pompei e si parla quindi di un passato che è vivo. E in qualche modo quel tema archeologico rispetto al sito più importante della nostra civiltà antica vale anche per Noto, dove una situazione drammatica impose una nascita di una seconda città, l'attuale città di Noto, rispetto alla Noto vecchia o antica, che è un sito non sufficientemente studiato, che si interrompe nel Cinquecento e poi comincia una vita nuova che riguarda i due secoli di questo studio archeologico, che riguarda la città di Noto così come è oggi, a partire dalla ricostruzione dopo il terremoto del 1693. E non riguarda propriamente la Noto vecchia, quella abbandonata, riguarda la Noto che è stata poi ricostruita e le sue strutture preesistenti, secondo le indagini di Lorenzo Guzzardi e Michele Luminati, che si annunciano essere molto puntuali e molto precise. Non so per quale lettore, perché l'avventura di Noto è più un'avventura legata al barocco e agli studi straordinari che sono stati fatti su quella autonoma espressione del barocco italiano, del barocco siciliano. Per quello che riguarda i miei titoli, devo dire che quello che ha dimenticato l'amico Marcucci, che sono stato commissario per la ricostruzione della cattedrale, e la parte che ha riguardato il mio intervento è stata piuttosto importante, perché quando finito gli architetti, De Beredictis e l'altro che in questo momento ho dimenticato, molto amico, la ricostruzione della cattedrale in perfetto stile settecentesco, con una misura che era quella di ricostruire così com'era e dov'era, è venuto il problema di cosa metterci dentro, perché anche la parte decorativa, la scultura, la pittura, i banchi, i confessionali, quindi vennero con un progetto tipico delle sovrintendenze di oggetti tipo quelli che vengono fatti dalle ditte di architettura di mobilio contemporaneo, quindi Ikea o cose di questo genere, confessionali di plastica, e io invece cominciai a agire sul pavimento e dissi il pavimento deve essere un pavimento fatto a lastre, quelle di noto sono lastre più fragili, prendiamo le pietre di Modica e quindi ho seguito quel punto, e poi da lì mi sono occupato di tutto quello che la ricostruzione ha innalzato, dai banchi che ho fatto copiare da quelli della cattedrale di Ragusa, alla decorazione interna affidata a numerosi pittori e scultori, e all'altare in particolare che è stato realizzato da uno spirito barocco, un giovane artista che si chiama Giuseppe Ducron, la cui famiglia è la medesima a cui fu affidato l'intervento da Basile per il Parlamento, per la vetrata del Parlamento. E quindi abbiamo riesumato un altro artista di origine siciliana, volto a una sorta di neobarocco, e chi va oggi a vedere quella chiesa ha la sensazione che sia così da molti anni, una decorazione, diciamo, di fine ottocento, la quale nel corso del tempo sembrerà ancora più legata a un'epoca precedente, a partire dall'altare, dal pulpito. Quindi mi sono molto applicato nell'individuare artisti, scultori, pittori, e il responsabile delle vetrate, che si chiama Mori, è riuscito a rendere bello perfino l'orrendo Padre Pio e altre figure di santi nel nostro tempo, come la trista Madre Teresa di Calcutta, che sono refrattari all'immagine o all'iconografia artistica, perché sono sgradevoli da vedere. Lui è riuscito in un modo o nell'altro a dissimulare il corpo di Padre Pio e a rendere gradevole anche l'abito della Madre Teresa di Calcutta. Quindi l'impresa è stata un'impresa completa, alla quale io ho affidato tutta la mia concentrazione, per scegliere gli artisti giusti, e credo che da 70 anni non ci sia una ricostruzione o un arredo di un edificio ecclesiastico che abbia la stessa coerenza di quello di noto. Tenuto conto anche dei vari tentativi di chiamare artisti come Valentino Vago o nel caso più alto Rotko a Houston per la Cappella Lumenille, cioè di scegliere un linguaggio del tutto contemporaneo. L'idea è di rappresentare, mi ricordo che era vivo il giovane arcivescovo di Civitavecchia che ci diede l'iconografia e quindi partendo da quei soggetti gli artisti dovessero seguire delle regole che impedivano loro di far prevalere il loro capriccio. Per cui ho frequentato Noto e ne ho visto il terzo destino, perché dopo il terremoto la cattedrale è stata ricostruita per un evento, non so se sismico, che è quello che la fece cadere alla fine degli anni 90 e poi riportata agli attuali fasti, prima nel 2007 con la ricostruzione dell'architettura e poi nel 2014 con la decorazione di cui sono stato la legamente responsabile. Per cui sono rimasto molto attratto dal tema di sotto il barocco di Noto, cioè di una valutazione di scavo archeologico e ricerca attivistica relativo a quello che era stato fatto nell'attuale città di Noto, Noto Vecchia, e questo attraverso un processo che è comunque archeologico, qualunque cosa reperisca e qualunque siano i reperti che verranno qui illustrati. Per questo sono felice che un editore particolarmente sensibile e particolarmente attento, come raramente sono, come Roberto Marcucci, abituato al metodo della filologia classica al quale si ispira anche quando pubblica libri di argomento moderno e così ha fatto con me un bel libro sul falso dell'arte, siamo divertiti anche lì a mantenere il suo rigore che caratterizza l'erba di Brechneider. E poi l'idea di presentarlo in questa fondazione che io passando qui a Largo Argentina ho visto mille volte segnata e per un po' l'ho confusa con una fondazione tipo quella di Leglio Basso, quindi politica. Poi un giorno con l'amico Scoppolo sono venuto a visitare questo luogo perfetto, questo luogo che sembra nato per un incontro come questo, e quindi che due primati di Roma sono legati all'imprenditoria privata di un editore che è un editore di Stato, è una fondazione che è per sua natura una fondazione di Stato perché preserva e conserva materiali che sono necessari per la conoscenza di alcuni momenti della storia italiana, vedere le due cose messe insieme, ma infatti immediatamente aderire alla richiesta di presentare, di anzi, di introdurre questo libro, cosa che voglio fare, augurando ai due studiosi guzzardi e illuminati di procedere nel loro impegno e continuare a provare le cose che sono in qualche modo sepolte da poco, un'archeologia più recente che antica, in maniera tale da far sentire che senza il passato non c'è il presente e che la gran parte delle parole che scrisse Raffaello Leone X sono proprio nell'ordine di questa capacità di presenza dell'antico che non deve essere disturbato, distratto, deviato e maltrattato dai contemporanei, ma deve essere venerato come giusto che sia e quindi la venerazione archeologica per una città che è tutta esibita, è tutta spettacolare, anche con la recente ricostruzione della cattedrale, è il segno che anche per noto c'è un passato che vive e che dà senso a quelle straordinarie presenze monumentali. Quindi io augurando buon lavoro a Guzzardi e a Luminati, mi compiaccio anche il lavoro che hanno fatto fin qui per una materia certamente ingrata, ma per darci una consapevolezza piena di come lo scavo archeologico ci spieghi bene che cosa è accaduto perché noto diventi quella città assoluta che l'UNESCO ha vincolato e quel luogo perfetto che noi vediamo all'apparenza di quello che abbiamo davanti a noi. Dietro c'è una tradizione archeologica, una storia archeologica della città e una serie di acquisizioni che la ricerca archivistica consente di acclarare in modo definitivo. Quindi un libro utile, necessario e tale da farci vedere quello che non si vede, quello che è dietro lo spettacolo della città. Per questo vi ringrazio dell'attenzione, io fra un po' andrò a inseriarmi come sindaco arpino dove il passato era presentato da Cicerone ma intanto ero felice di essere presente e non collegato per salutare i diversi amici che sono qua presenti per questa impresa, compreso Michel Grasse con cui andammo a vedere alcuni monumenti francesi a Roma con la sua passione di un uomo che è diventato romano perché è inevitabile esserlo per chiunque sia europeo. Non si dà un'Europa senza Roma, non si dà un'Europa senza la Grecia, non si dà un'Europa neanche senza la Sicilia. Grazie. Ringrazio Vittorio Sgarbi che sempre magistralmente ha una narrazione che ci porta intorno e lontano, ci fa conoscere altri aspetti. chiedo scusa a Vittorio di... ma sono sicuro che non solo questo ho dimenticato ma chissà quante altre ne ho dimenticato. Voleva essere una sintesi. Grazie ancora Vittorio. Adesso se la regia, chiamiamola così, ce lo consente, dovremmo avere un collegamento con il sindaco di noto Corrado Figura e vediamo se siamo in grado di avere il sindaco. Si sta connettendo? Grazie. Eccolo. Dritto, dritto. Sindaco, cortesemente, il telefono è verticale, altrimenti la vediamo girata. Grazie. Così va bene, grazie sindaco. Grazie a voi. Prego, può parlare quando vuole? Noi siamo qui. Sì, grazie. Buon pomeriggio a tutti, saluto le illustre autorità e illustri relatori, un saluto particolare al sottosegretario onorevole Vittorio Sgarbi. e ringrazio anche il dottor Lorenzo Guzzardi e il dottor Luminati. Rivolgo un saluto a tutti i presenti. Quest'opera realizzata dal dottore Guzzardi e dal professor Luminati è un'opera straordinaria che dà anche l'essenza di quello che è questa straordinaria città. Questa città che è patrimonio dell'umanità, che rappresenta veramente una città unica al mondo. ma dimostra anche quali sono stati le attività che sono state poste in essere dai nostri avi per costruire la noto di oggi dopo il terribile terremoto del 1693. e c'è una prima fase in questo scritto importante in cui in questo testo importante in cui si mette in evidenza le difficoltà che hanno avuto i nostri avi per costruire questa meravigliosa città nel famoso sito dei medi scelto. Successivamente le difficoltà che hanno avuto nel reperire i materiali e nell'utilizzare i materiali che sono stati che erano diciamo su noto antica e che sono stati utilizzati per costruire palazzi, chiese che rappresentano anche la bellezza architettonica di questa città. la difficoltà in una seconda fase anche a reperire l'acqua ma la bellezza che mette in evidenza questo testo del dottor Lorenzo Guzzardi e del professor Luminati è quella di mettere in evidenza anche la scrupolosità con cui sono stati decisi i luoghi dove costruire questi palazzi magnifici con la pietra di noto che veniva da noto antica cioè quella pietra riutilizzare la stessa pietra che era stata utilizzata per costruire quei palazzi che furono distrutti dal terremoto del 1693 e la cosa particolare che nel costruire la noto di oggi era stata anche la volontà di utilizzare gli architetti più importanti dell'epoca e che ogni palazzo ogni chiesa doveva essere costruita per stupire per far sì che ogni palazzo doveva essere più bello dell'altro ogni chiesa doveva essere più bella rispetto a quella che veniva costruita e poi la bellezza di costruire la cattedrale e palazzo d'Ucezio l'uno di fronte all'altro cioè potere temporale e potere religioso che rappresentano anche il potere di questa città questa città che è una città che da sempre è stata una città importante una città ingegnosa e lo ha dimostrato anche dopo quella terribile catastrofe del 1693 naturalmente quando abbiamo presentato il testo lo abbiamo presentato in occasione delle celebrazioni unesco lo abbiamo presentato in occasione dei vent'anni dell'iscrizione di Noto e delle città tardo-barocche del Val di Noto nel World Heritage List questo perché questo testo veramente dimostra l'importanza che c'è stato nel post terremoto del 1693 in cui tutte le città tardo-barocche del Val di Noto sono riuscite a rialzarsi e dimostra proprio che questa città è una città resiliente una città che riesce sempre a rialzarsi dai momenti difficili dalle difficoltà è stato sempre così e oggi tutti i momenti più difficili che ha attraversato si sono dimostrati invece si sono trasformati in grandi opportunità io diciamo volevo essere lì insieme a voi mi dispiace non esserci perché voi sapete benissimo che questo fine settimana ricorre il l'infiorata la 44esima edizione dell'infiorata quest'anno l'infiorata è dedicata al cinema cioè a tutti i film importanti che si sono girati a noto l'infiorata rappresenta anche un evento unico al mondo grazie alla bellezza dei palazzi barocchi che circondano questa via dove verrà allestito questo tappeto di fiori e proprio anche in questo il volume il testo che il professore Guzzardi e il professore Illuminati presentano oggi sono degli elementi importanti e in più che fanno riflettere proprio sulla capacità di aver costruito questa città con questa con questa architettura io voglio anche salutare l'onorevole Sgarbi dicendo a tutti che stiamo lavorando insieme a lui ad un progetto importantissimo che è questo di rivalutare l'ex scuola Littara una scuola costruita in occasione del del 1920 e per farla trasformare in museo nazionale del novecento siciliano e il professore Sgarbi come sapete benissimo ama Noto ama questo territorio e prossimamente verrà il 27 maggio qui a Noto lo voglio ringraziare personalmente voglio ringraziarlo davanti a voi per il grande aiuto per l'impegno che sta dando a questa città e continua a dare anche perché ricordiamo a tutti che è stato protagonista della rinascita della cattedrale della ricostruzione della cattedrale ed è un merito che gli deve essere riconosciuto e va riconosciuto veramente pubblicamente per l'amore che ha dimostrato nei confronti della nostra città e che continua a dimostrare saluto tutti e ringrazio tutti i presenti e vi seguirò qui a distanza grazie signor sindaco delle parole ci ha fatto anche rivivere questa cerimonia questa che sarà l'infiorata tra qualche giorno questo prossimo fine settimana mi ero dimenticato di dirlo che lei era occupatissimo per questo motivo più che giustificato quindi e la ringrazio anche di aver parlato bene del libro che come insomma sappiamo tutti è un gran bel libro e che lei conosce anche molto bene ora se siamo fortunati dovremmo metterci in collegamento con Paolo Portoghesi dico se siamo fortunati perché il tempo cattivo e il fatto che il professor Portoghesi non è potuto purtroppo venire qua a causa di una lieve indisposizione vive a Calcata che è a 30 km da Roma verso Viterbo e lì il collegamento mi dice che non è perfetto dal punto di vista del collegamento internet adesso sentiamo di nuovo la regia intanto mentre la regia cerca di trovare questo scusi sovrappongo siamo in attesa che il professor Portoghesi si colleghi ma non ha una buona connessione oggi quindi come non appena si collegherà lo mandiamo magari interromperemo ringrazio allora io intanto faccio una breve presentazione di Paolo Portoghesi che è conosciuto e comunque io ho scritto qualche riga o mi è stata fornita qualche informazione su di lui che vi trasmetto con grande piacere architetto e teorico dell'architettura italiano esponente della corrente del postmodernismo nel 62 inizia la sua carriera universitaria a Roma a Milano presso il Politecnico nel 64 fonda uno studio insieme all'ingegner Vittorio Gigliotti con cui realizzerà la maggior parte dei progetti della sua carriera ha anche parallelamente una grande attività dal punto di vista delle riviste istituisce in fondo la rivista Controspazio di cui rimarrà direttore fino all'83 successivamente direggerà il dizionario enciclopedico di architettura urbanistica e la rivista Eupalino qui voglio fare una breve piccolissima nota mi vanto di essere stato l'editore l'erma è stata l'editrice di questa rivista di grandissimo formato e abbiamo fatto delle esperienze grafiche incredibili cioè ogni numero era diverso dall'altro ogni articolo in ogni numero era diverso dall'altro e in più nell'85 e 90 quindi sono usciti 12 numeri all'epoca c'era tutto inglese quindi era italiano e inglese e che era un qualcosa di nuovo per l'epoca per i meriti conseguiti nell'ambito della sua attività professionale e culturale è stato nominato membro dell'Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze Accademia di San Luca e dell'Accademia dell'Icei e infine dell'American Institute of Architects allora se ci siamo bene altrimenti andiamo avanti con il professor Graff purtroppo non riusciamo a connetterci nemmeno via telefono dobbiamo andare avanti bene grazie comunque di averci provato di provarci perché ci tenevamo molto allora adesso tocca a Michel Graff adesso però devo fare anche un'introduzione a te breve ma la faccio professore associato di storia membro dell'Ecole Française de Rome di cui è stato direttore di studi dal 73 all'85 e poi direttore dal 2003 al 2011 dimmi se sbaglio perché devo stare attento io poi è direttore della ricerca del Centre Nazionale de la Recherche Scientifique e la più grande organizzazione di ricerca pubblica in Francia e membro della sezione francese dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici abbiamo qualcosa a che fare con voi per alcune pubblicazioni con il Corpus degli Specchi e inoltre socio straniero dell'Accademia Nazionale dell'Incei socio effettivo della Pontificia Accademia Romana di Archeologia membro ordinario dell'Istituto di Studi Romani e membro corrispondente dell'Istituto archeologico germanico ecco qui a voi Michel Gra grazie Buonasera a tutti tutti presenti a cominciare da Vittorio Sgarbi e a tutti collegati abbiamo sentito poco fa il sindaco di Notto Doverose da parte mia una premessa per presentare questo bel libro con un bel titolo e con un sottotitolo molto esplicito ho scoperto con molto ritardo e con la dovuta sorpresa una relazione scientifica clandestina fra due amici che tutto in partenza allontanavo un archeologo siciliano che conoscevo da tanti anni per il suo impegno nell'amministrazione dei beni culturali di un'isola a me molto cara e un giurista svizzero di Lucerna che avevo incontrato a Roma quando dirigevo l'Istituto Svizzero Michele frequentava noto da ragazza ma io non lo sapevo non mi sono sentito tradito ma ho pensato che solo noto poteva portare tale sorpresa e ho pensato subito che dovevo all'avventura il film di Antonioni la mia prima scoperta di noto della Sicilia all'inizio degli anni 60 ma che si trattava questa volta di un'altra avventura non quella che sarebbe stato un fantasma piacevole al quale hanno sognato tanti maschietti della mia generazione cioè quello di affiancare alla stupenda Monica Vitti nella ricerca della stupenda Lea Masari ma di capire invece un incontro atipico anche se legittimo fra due studiosi amici gli storici hanno anche tanti ricordi più recenti di noto recenti antichi di noto non lontano come sapete dal luogo dello sbarco degli Aniat il 10 luglio del 43 ma anche non lontano dal luogo dove erano stati sconfitti gli Atenesi sul fiume Asinaro nel V secolo avanti come sappiamo da Tucidide quindi noto sembra periferia ma periferia non è comunque noto va bien une messe come diciamo in francese e sono qui a posto per contribuire a celebrarla indegnamente e ringrazio gli autori e gli editori Roberto Marcucci di aver pensato a me per questo ritorno sull'isola io ho la cattiva abitudine di leggere un libro prima di presentarlo e quindi mi sono buttato dentro queste ricche pagine col piacere di leggere un'edizione ben curata grazie Roberto con un'illustrazione che alleggerisce la serietà del discorso ma ognuno di noi quando legge un libro pensa ad altro o più esattamente il lettore viene assalito da altri pensieri da altre esperienze che hanno un legame più o meno stretto e legittimo con le pagine che ha davanti agli occhi e non voglio nascondere cosa da non ripetere agli studenti se qualcuno è presente che potrebbero rimanere i quali potrebbero rimanere confusi che quando leggo di noto antiche della nostra noto barocca e del trasferimento dai monti verso il mare mi sembra ritrovare un discorso d'antichisto fra gli indigeni siculi dell'interno e i greci della pianura costiera non è ovviamente il caso nel nostro caso niente indigeni niente greci ma mi viene difficile non pensare che al di là dei fatti ritroviamo in cui questo desiderio di mare che è una costanza storica la storia è una lente costante discesa dell'uomo verso il mare e gli specialisti ci dicono oggi che tale tendenza nel mondo moderno si va accentuandosi intendiamoci noto non è sul mare ma sui primi contraforti una posizione che noi antichisti conosciamo bene che è proprio quella delle città etrusche di Cerveteria di Tarquinio per esempio ma anche della stessa Roma dove ci troviamo Tucidi de Platone e Cicerone nel passato hanno ribadito questo tema questo tema conviene star vicino alla mare per approfittarne per gli scambi commerciali per esempio per la pesca eccetera ma non troppo per non rischiare certamente loro nel passato pensavano alla pirateria ma anche alla malaria sono gli stessi pensieri che erano nella testa di tutti nel 1693 ma avrei dovuto cominciare col ricordare che il punto di partenza del libro e di tutto il racconto è una tragedia quello del terremoto del 1693 appunto purtroppo non è la prima né l'ultima che la Sicilia e l'Italia tutta hanno dovuto affrontare lo sappiamo bene solo per questo il tema nostro è un tema molto attuale perché si tratta appunto della documentazione che porta una testimonianza sulla risposta che una piccola società della fine del 1600 poteva dare a un tragico evento e Michele Luminati va ringraziato in particolare per aver dato l'intera documentazione degli atti notarili sistematicamente raccolti e trascritti da lui sono 322 documenti tenete bene questo in mente e un punto centrale ci torneremo non ho la competenza per addentrarmi in tutto ma chi ci ascolta deve ritenere almeno un dato non si tratta qui di un nuovo discorso sul Grand Tour e sulla bellezza di Noto colore di miele come ha scritto Cesare Brandi in Sicilia mia anche se Noto non veniva apprezzata da tutti nel Grand Tour perché appunto barocca e non classica ma gli atti notarili ci fanno entrare nel quotidiano nei conflitti interni nella strategia delle famiglie e degli individui certamente non è facile rendere conto di queste infinite micro storie in una presentazione sintetica ma il punto deve essere chiaro a tutti e sono sicuro che tale discorso non finisce qui e ci tornerò un rapido ricordo dei fatti il terremoto del 9 dell'11 gennaio del 1693 fu rapido e brutale muoiono quasi 58.000 persone in tutto il Val di Noto come sapete il Val di Noto prima del 1912 e tutta la parte della Sicilia che va da Catania a Noto a Raguse a Caltagirone a Siracusa sono 58 città e villaggi a Noto stessa su 12.000 abitanti ne muoiono fra 1.200 e 4.000 circa la città contava allora 56 chiese 19 monasteri 30 palazzi nobiliare tutto distrutto Noto e quando dico Noto la Noto di allora non l'attuale Noto diventa dunque in quel momento con la fondazione della nuova Noto Noto tocca in Sardegna quando emerge Cartagini nel Città Nuova il libro affronta la questione dello spostamento e soprattutto la questione della ricostruzione quindi gli ultimi anni del 1600 e la prima età del 1600 è il momento centrato dal libro archivi e archeologia non si devono combinare evitando un cerco vizioso ma invece confrontare noi antichisti sappiamo che è una base metodologica e gli autori giustamente chiamano tale confronto sovrapposizione miscela altamento produttivo cito lo spostamento fu deciso il 27 febbraio cioè meno di due mesi dopo la tragedia non fu semplice anche se i chilometri la distanza era poco sono 7 chilometri tra il punto di partenza e il punto di arrivo furono circa 6.000 persone a traslocare per modo di dire cioè a scappare dalla noto antica verso la nuova la nuova città spostarsi significava lasciare il che non è mai semplice e la scelta del nuovo sito fu assai difficile e il libro lo fa ben vedere si fu deciso all'ultimo momento si intrecciava necessariamente in una rete di interessi e quindi di conflitti nello stesso momento Catania non si sposta come sapete bene Lentini si sposta ma torna indietro Noto non si sposta e non torna indietro ma c'è chi voleva anche tornare e lì a Tino tariva consentono ovviamente di ritrovare nel dettaglio tale incertezza i nuovi terreni facevano parte del feudo di Falconara proprietà del marchese di Avola erano stati a lungo in stato di abbandono poi concessi in anfiteosi servivano prima per l'allevamento di ovine la coltivazione di mandorle uva cereale e carube c'erano pure alberi e gli scaviano puntualmente ritrovato le relative bucche alcune delle quali potrebbero risalire ad epoca greca secondo le strategie ne risultava che la nuova città di Noto non poteva né comprare i terreni che non erano demaniali né venderli ai nuovi occupanti dunque un imbroglio giuridico amministrativo rimane aperta la questione di sapere se le presistenze appunto Lorenzo questo lo sa hanno condizionato il nuovo impianto gli autori lo sottimiclo fanno capire che la cosa è possibile e poi ovviamente meriterà un giorno una conferma a monte della ricostruzione gli scavi hanno dato una radiografia del sottosolo intorno a Corso Vittorio Emanuele nel centro della città la scelta è stata condizionata dai lavori di restauro in Corso le presistenze risalgono la preistoria precisamente all'età del ram cioè la prima metà del terzo milone millennio non è una sorpresa in Sicilia devo dire di trovare questa lunga durata dell'occupazione umana lo sapete bene il cuore del libro vuole far emergere la transizione fra il vecchio e il nuovo e più precisamente cerca di documentare il passato della nuova noto prima di essere città e questo è un punto importante c'è il passato lontano dalla preistoria e poi ma anche direi soprattutto il passato prossimo cioè quella della fase che loro chiamano delle baracche fondamentale sul piano storico perché ci consente di capire come ha funzionato il quotidiano di una gente strappata dalle proprie case e che ha dovuto per anni accamparsi come potere ora consentitemi di dire che tale impostazione e come lo sa bene Lorenzo Guzzardi è proprio quella che abbiamo tentato di impostare in una città greca che è stata curata fino a poco tempo fa da Lorenzo Megariblet a 20 km a 20 km a 40 km quindi di Notto per tentare di capire come i primi greci hanno funzionato prima di far emergere una delle prime piante regolari d'Occidente e appunto avevamo chiamato noi nel 2004 questa fase la fase degli accampamenti un'espressione molto concreta ma l'espressione che loro hanno ritrovato nelle fonti è ancora più concreta se vuol dire quella delle baracche primordiali baracche primordiali e ovviamente va benissimo si tratta di un abitato povero per modo di dire come diciamo dell'arte povero provvisorio ben lontan dalla splendida architettura barocca di cui abbiamo già parlato ma appunto un abitato che ha consentito l'emergenza di tale architettura attraverso i secoli ritroviamo così una permanenza quella della sopravvivenza non è lunga durata non è nemmeno l'efimero è una microstoria alla scala di una generazione chiaramente alla differenza dell'età greca la baracopoli questa è anche un'espressione che si trova nel libro veniva impiantata all'esterno del sito da edificare ma il principio rimane lo stesso le fondazioni di città non vengono fuori da un giorno all'altro e noi tutti antichisti abbiamo a lungo sottostimato l'aspetto temporale abbiamo schiacciato questi giorni questi mesi questi anni addirittura questi decenni necessari per far emergere una nuova città le fonti greche ci hanno ingannato su questo perché in parentesi mia ricordavano l'actis l'atto di fondazione che è un rituale che a un certo momento si fa ma che si fa quando la fase di emergenza è già a buon punto e questo ha suscitato tanti problemi che non è il luogo per ricordare nel nostro caso c'erano 6.000 persone circa che avevano perso la casa e che aspettavano quindi le baracche erano indispensabili per campare siamo ovviamente a un'altra scala statistica rispetto al mondo delle fondazioni greche dove i coloni i fondatori erano pochi centinaia molto di meno qui sono invece migliaia di persone tuttavia e la cosa importante ci sono dei casi dove il terreno occupato dalle baracche aveva vocazione a diventare terreno costruito e allora c'è il passaggio suggestivo della baracca all'otto questo è un punto che a me ovviamente interessa molto e sul piano storico è fondamentale perché anche lì è importante vedere come nelle città da una sistemazione provvisoria si passa a una sistemazione che sarà definitiva quando la casa e la proprietà saranno costruite chiaramente alla fine del seicento il discorso è diverso rispetto all'antichità ma il processo è lo stesso e l'operazione è condotta da un commissario che non è altro che per noi che il successo ideale dell'oichistess greco di cui parlano le fonti a questo punto viene fuori per la nostra notte un problema che non mi è chiaro secondo gli autori i cittadini scelgono la posizione e la dimensione della loro particella non c'è traccia del sorteggio noi nell'antichità parliamo sempre di sorteggio sorteggio ai quali gli antichi non credevano perché era una copertura per far vedere che il risultato l'avevano voluto gli dei ma Platone e altri ci vanno capire che tutto questo è un po' una messa in scena quindi per tornare a notte sarebbe importante riuscire a capire se i vicini di notte antiche se la gente che era vicina di casa nella notte antiche distrutta dal terremoto si ritrovano o no si ritrovano vicini alla nuova notte come si tenta di ritrovare le prossimità le solidarietà uno non è mai in queste nuove città il vicino dell'altro per caso se ci ritroviamo se partendo dal niente e appunto nel caso ci ritroviamo uno accanto all'altro vuol dire che fra di noi c'è una storia c'è qualcosa alle spalle e questo ovviamente è un punto che mi interessa molto nel libro attraverso la lettura del libro allora certamente per le chiese conventi monasteri c'erano delle preferenze un ordine da rispettare dei regolamenti da seguire ispirati in parte da quella della colonizzazione spagnola in America Latina prima le chiese poi i nobili poi i borghesi infine gli artigiani e i scetti inferiori che si ritrovano in periferia una prefigurazione poi delle nostre banlieue e borgatte comunque si agli scavi gli archivi rivelano tre fasi quelle delle baracche quelle di una prima fase costruttiva relativamente modesta e infine nel caso di Noto dopo il secondo terremoto più leggero perché c'è stato un secondo terremoto nel 1727 e dunque vedete lo scarto di tempo siamo partiti dal 1693 l'emergenza della grande urbanistica barocca che abbiamo ancora per fortuna sotto gli occhi tale evoluzione corrisponde all'impegno di tre generazioni la generazione che ha vissuto la strage il terremoto e il trasferimento la generazione che ha quella del primo impegno e infine quella della fase barocca erano 6.000 in partenza sono 11.000 nel 1848 un secolo un po' più di un secolo dopo il secondo terremoto concludo gli autori hanno voluto arrivare alla gente e citano in proposito una fase di Castoriadis Castoriadis è un filosofo francese di origine greca nato un secolo fa e scomparso nel 97 e che ha scritto la città viene ripresa nel libro la città e la gente altrimenti non è è una fase che riprende passo per passo è un famoso passo Tucci di Deo ricordo che Giorgio Vallè aveva voluto questo sulla prima pagina del primo volume dell'escavo di Megara una città sono degli uomini non sono dei muri noi archeologi ogni tanto abbiamo bisogno di ricordare questo perché siamo il naso sulle strutture materiali ma alle spalle c'è la gente risulta che la scelta del nuovo logo per impiantare un'auto non fu casuale si trattava anche di rispettare il divieto spagnolo di costruire sulla costa rimane da indagare nel dettaglio il trasferimento delle maestranze di noto antico a noto barocco come si sa la mobilità delle maestranze è un tema centrale anche in qualsiasi secolo perché non consente di spiegare rotture e continuità il buon senso porta a pensare che nell'insieme le maestranze artigiani eccetera hanno guadagnato molto in questa tragedia perché sono stati in primo piano per costruire la nuova città probabilmente tutta la Sicilia sudorientale è stata profondamente scorsa sul piano economico e social da un evento del genere si capisce basta pensare alla ricerca del legno che si fa fino in Calabria emerge così una nuova era che oggi ancora fa di quella zona una meraviglia architettonica cosa sarebbe stata la Sicilia senza il 1693 più felice certamente ma non più bella forse mi permetto un rimpianto i 322 documenti trascritti da Michele Luminati in 90 pagine in corpo minore meritano anche un'edizione completa io non ho la pretesa di essere un conoscitore della Sicilia barocca ma mi sembra che rispetto alla notevole bibliografia sull'argomento che ovviamente viene citata e ve la risparmio e che loro conoscono perfettamente il nucleo duro di questo libro si trova come già detto nello spoglio sistematico degli altri notarici certamente tanti gli altri sono stati anche studiati da Michele Luminati e infatti le note infrapaginali sono in abbondanza incredibili rimane il fatto che il lettore avrebbe voglia Lorenzo di avere un'edizione completa ecco questo è un passo avanti da fare perché avete fatto il più duro e mi sembra che il secondo passo va fatto e dunque è un bel preludio comunque vorrei chiudere su una considerazione personale se cerchiamo a capire l'emergenza della noto barocca non si può non chiedersi fino a che punto il concetto formale di urbanistica funziona nel nostro caso la città che viene fuori non è altro che lo specchio della società che sta alle spalle l'abbondanza delle chiese dei palazzi della noto antica si ritrova perfettamente nella noto barocca certamente in una veste diversa ma il contenuto cambia poco e questo mi consente di ricordare che il nostro concetto di urbanistica è un concetto moderno le parole inventate come molti sanno dall'architetto catalano Serda alla fine del novecento 1867 prima e già nel mondo greco e questo per noi antichisti è un punto fondamentale secondo me la forma urbana rifletteva la società i greci nel loro vocabolario tanto ricco i greci antichi non avevano una parola per dire urbanistica conoscevano la politeia che era tutti insieme una realtà istituzionale una realtà formale con una taxis con un ordine legato a tale ordine la forma urbana era lo specchio della società per loro e noi abbiamo introdotto una distensione fra il contenuto e la forma e questo non esisteva nella storia e ancora l'esempio di Noto mi sembra dimostrare l'importanza di tale realtà vi ringrazio grazie mille professor Michel Gras per questo racconto di questo dramma incredibile leggendo il libro adesso mi hai ricordato che i morti sono state decine di migliaia e questo racconto anche della ricostruzione faticosa dell'avventura della ricerca dei terreni e delle contese su questo ma insomma su questo parleranno sicuramente gli autori allora un'ultima domanda un'ultimo tentativo se il professor portoghesi è raggiungibile mi dicono di no e quindi no grazie prima di passare la parola ai due autori direi in ordine alfabetico se siete d'accordo devo anche se lei non vuole la professoressa Bartoloni non vuole mi ha già pregato di non farlo ma io voglio fare una brevissima perché per noi è importante quindi una brevissima sintesi di chi è forse la conoscete tutti ma insomma per chi non lo sapesse si laurea con Massimo Pallottino insegna etroscologia e antichità all'Università di Lecce di Siena e poi anche alla Sorbona dall'80 al 2014 è professore associato e poi ordinario di etroscologia presso la Sapienza di Roma sappiamo tutti forse che la Sapienza di Roma oggi ricopre il dipartimento che occupava prima Gilda Bartoloni è il numero uno al mondo come dipartimento cioè il ranking numero uno ha superato tante università internazionali molto famose ed è stata anche presidente della fondazione Besso adesso l'attuale presidente è credo Lucio Caraccio quindi ringraziamo lei come ospite che ci ha consentito questa bella presentazione allora direi che allora in ordine alfabetico di cognome Guzzardi prima di Luminati Lorenzo Guzzardi che è qui vicino passo la parola però faccio posso fare una brevissima introduzione anche per te allora lui è stato dirigente archeologo la sezione archeologica della sorprendenza di Enna poi la Villa del Casale di Piazza Armerina il Museo Regionale di Camarina quindi è un grandissimo conoscitore dei beni archeologici della Sicilia è stato nella sorprendenza di Siracusa il Parco di Eoro e di Villa del Tellaro che è un magnifico posto con magnifiche mosaici ecco qui passo la parola a Lorenzo grazie Roberto grazie per questa bella occasione e soprattutto grazie ai relatori Sgarbi ha sottolineato l'importanza di noto e veramente il discorso che lui ha fatto sulla cattedrale richiama ma non poco le indagini che abbiamo potuto fare proprio a causa del crollo quindi diciamo quello che è stato un fatto negativo per la ricerca si è rivelato positivo e a parte la cattedrale di noto tutta la ricerca che noi abbiamo svolto diciamo ha come punto di partenza lavori di indagini di restauri sui monumenti di noto dicevo questa indagine per la quale Michel Gras ha subito richiamato i confronti e anche ha stimolato una discussione importante sotto il profilo metodologico perché le indagini che noi abbiamo svolto a noto sono come ha detto lui stesso con un impianto di ricerca che ha non pochi confronti proprio con quelle che con i suoi collaboratori lui ha svolto a Megareblea che è l'ultimo luogo in cui sono stato direttore fino a qualche mese fa e quindi con Michel abbiamo avuto modo di confrontarci anche sulle fasi greche diciamo di quella città ma i problemi come avete visto dell'urbanistica sono sempre gli stessi quindi si ripropongono anche in momenti diversi situazioni che possono trovare corrispondenza e confronto lui ha ha sottolineato due aspetti che sono uno quello della continuità con il sito della città antica ma ha anche parlato di un tema che noi abbiamo affrontato nel testo cioè quello delle sopravvivenze di delle persistenze di strutture preurbane di strutture agricole che erano in quel territorio dove fu fatta la nuova città e quindi anche lì ci sono elementi interessanti che sono emersi soprattutto nella parte meridionale della città di Noto dove abbiamo eseguito delle indagini anche molto fortunate ma frutto sempre di questi interventi che la sopravvivenza di Siracusa in quegli anni svolgeva per motivi di restauro cioè la possibilità diciamo com'è nata questa ricerca questa ricerca è nata in funzione di quello che man mano si stava rimbenendo nei vari cantieri di restauro che la sezione architettonica della sopravvivenza svolgeva allora il sopravvivenente Voza archeologo sensibile diciamo a quello che potevano essere le informazioni derivanti dalle indagini del sottosuolo chiese a me di seguire queste indagini e effettivamente incominciarono a venire fuori resti murari che nulla avevano a che fare con quello che noi vedevamo cioè noi in passato diciamo nell'opinione comune quello che si vede di noto era la ricostruzione della città cioè si pensava che tutto quello che si vedeva appartenesse alla fase di ricostruzione in realtà quello che noi vediamo di noto è già la terza generazione della città come ha sottolineato Michel Gras richiamando appunto alcuni temi che noi abbiamo affrontato per i singoli lotti e quindi abbiamo visto che c'è poi una situazione comune lui ha sintetizzato bene un aspetto che poi abbiamo visto è accomunare parecchie storie di isolati ci siamo resi conto che prima di questa noto monumentale la tanto celebrata noto Tardo Varocca ce ne sono state almeno altre due e la più antica appunto come vi diceva è quella delle baracche quella che noi abbiamo chiamato archeologia delle baracche che ha tanto a che fare con l'archeologia degli accampamenti che tu Enri Tresini avete portato avanti in questi anni a Megareblea e in realtà abbiamo trovato a noto fra le prime cose che si rinvenivano durante i cantieri di restauro oltre anche alle preesistenze perché abbiamo trovato tombe greche abbiamo trovato anche tombe preistoriche che risalgono anche al quarto millennio a.C. questo quindi un sito che dominava un corso fluiale che si prestava molto bene doveva essere anche lungo diciamo una serie di vie di collegamento e un nodo viario importante lo è stato anche nel 600 e 700 quando appunto si sceglie questa nuova situazione più a valle cioè più vicino al mare ma la cosa appunto interessante è che abbiamo avuto modo di trovare proprio i buchi dei pali delle baracche pensate nel libro c'è un riferimento a un ingegnere l'ingegnere Formenti che fece una mappa di noto nel 1699 gli studiosi pensavano che quella fosse una mappa della città da costruire cioè ci sono tanti tratti in nero segnati nella piantina all'interno degli isolati dalle indagini che abbiamo fatto abbiamo capito che non è un programma è proprio quello che state vedendo non è un programma di ricerche ma era lo stato di fatto cioè già nel 1699 quindi sei anni dopo il terremoto già si era costruita la città e si era costruita appunto con le baracche poi è bello perché si segue attraverso i documenti d'archivio ma l'abbiamo visto anche nella ricerca archeologica e quindi lì veramente si sono intrecciate le due ricerche che ci sono dei monumenti che incominciano ad essere monumentalizzati cioè si passa dal legno alla pietra addirittura ce ne sono alcuni che sono partim cum tabulis partim cum muris come dicono i documenti quindi c'è proprio tutto questo passaggio c'è anche la necessità di ricorrere a nuovi materiali perché a un certo punto non bastarono più i legni provenienti da nota antica le travi di edifici crollati che venivano riutilizzati come pali per per le baracche abbiamo questo testimoniato dalle fonti ma anche dallo scavo archeologico perché si vedono proprio chiaramente questi pali a sezione quadrangolare quindi tipica proprio di una trave che viene questa volta però posizionata come palo ma a un certo punto queste travi finirono e quindi ci fu la necessità di acquisire i legni della Calabria e nello scavo abbiamo trovato il buco di palo quadrangolare che a sua volta è tagliato dal buco di palo circolare dell'albero della Calabria e tutto questo confermato dai documenti d'archivio come capite si tratta di una ricerca archeologica che va al di là un po' di quelle che sono le specializzazioni dell'archeologia tradizionale perché io lì ho scavato come si scava una capanna preistorica e come avevo imparato scavare quel tipo di strutture all'interno abbiamo anche trovato quei chiodi quegli elementi che a differenza del legno si sono conservati e che ci fanno anche capire che ovviamente c'era tutto un sistema di trattenimento di questi pali quindi un'archeologia che veramente parlava ma che in questo caso ha parlato molto di più perché i documenti tutta quella enormità di documenti pazientemente riportati e studiati da Michele Illuminati ci hanno consentito di leggere in maniera più puntuale e questo devo dire è anche forse la particolarità di questo tipo di indagine che è nata forse anche per caso perché quando Michele Illuminati studiava noto nella sua ricostruzione sotto il profilo storico-giuridico con la sua diciamo formazione e per la sua disciplina noi andavamo rinvenendo questi elementi archeologici all'interno dei cantieri di scavo e così ci siamo resi conto che le cose che io trovavo nel terreno erano le stesse che venivano descritte molto più puntualmente dai documenti d'archivio addirittura in qualche caso abbiamo talmente intracciato le due cose che siamo riusciti a datare in maniera puntuale anche cose non documentate dal punto di vista archivistico perché stavano stratigraficamente fra quelle più antiche e quelle più recenti quindi tutto questo però ovviamente sapere il nome dell'abbadessa di Odato che ha commissionato una canaletta dei mastri che hanno lavorato per quante onze e tarì è costata quell'opera quindi poter confrontare poi questi dati è un privilegio che pochi archeologi possono vantare perché certo avere una messa di documenti così importante non capita tutti i giorni e quindi credo che in questo la presentazione di Michelle mi ha molto lasciato soddisfatto perché veramente vedo come la nostra ricerca può avere delle refluenze insomma ci sono aspetti che forse noi in una prima fase non avevamo neanche considerato già eravamo sorpresi delle novità che potevano emergere da questa collaborazione ora c'è addirittura una prospettiva ulteriore a parte l'auspicio di pubblicare in maniera completa tutti i manoscritti rimane anche il fatto che si possa inserire questo discorso non in una lunga durata ma in un discorso di metodo di ricerca che può essere molto stimolante e io credo che il libro possa svolgere anche questa funzione me lo auguro perché fin qui diciamo questo tipo di ricerca non solo in Sicilia ma anche in altre regioni è stato poco poco curata quindi bisogna avere ovviamente la capacità di seguire due solchi due linee di ricerca e poi metterle insieme questo è ovvio quindi è naturalmente un lavoro interdisciplinare ma può essere una linea su cui lavorare anche in altri siti ricostruiti noi abbiamo visto che Noto ha questa particolarità essendo ricostruita in una zona completamente diversa quindi distante linee d'aria a 7 chilometri ma anche di più poi lungo i percorsi viari ovviamente noi avevamo quasi a parte queste preesistenze preistoriche greche una tabula rasa cioè un un ambiente abbastanza neutro o relativamente neutro tranne queste eccezioni su cui sono nate appunto le prime baracche quindi abbiamo potuto seguire un po' tutto questo processo più complicato è poterlo fare in città come Catania in città come Ragusa che hanno avuto una storia anche un po' diversa Catania per i problemi anche del sottosuolo che in parte è occupato dalle eruzioni vulcaniche Ragusa perché la città fu ricostruita nello stesso luogo quindi quando tu scavi lì hai anche le cose precedenti al 1693 e lì diventa un po' più difficile capirlo pensate che quando noi abbiamo fatto i primi scavi le prime sorprese che abbiamo avuto non non facevano capire che si trattasse di cose della ricostruzione abbiamo pensato in un primo momento a cose precedenti fra le altre cose le prime i primi rivenimenti mettevano in luce alcuni tratti di intonaco dipinto con maestranze dello stesso tipo quindi siamo rimasti abbastanza perplessi è come se fossimo stati a noto antico e non a noto nuovo però questo ci ha fatto pensare che ci potesse essere una continuità cioè che quelli che ebbero la fortuna di restare vivi continuarono come maestranze a lavorare a noto e dall'altra parte un'altra cosa che ci ha molto fatto riflettere è che nella chiesa di San Carlo che è una di quelle più importanti la chiesa che addirittura ha sostituito temporaneamente la cattedrale dopo diciamo il crollo di cui parlava Sgarbi prima lì abbiamo trovato il collegio dei gesuiti organizzato diversamente quindi abbiamo trovato anche la parse rustica dell'isola dei gesuiti nel momento diciamo precedente a questo terremoto del 1727 di cui si parlava prima e ci siamo resi conto che c'è la possibilità di leggere puntualmente tutti questi momenti ma la cosa che ci ha più sorpreso è che quando troviamo il primo tratto murario aveva lo stesso orientamento della città attuale e questo naturalmente non poteva essere solo una coincidenza era pensabile che fosse qualcosa appartenente al primo impianto della città ma a vederlo sembrava proprio una presistenza un fatto interessante e qui concludo è che è noto abbiamo visto che poiché la città è in un declivio perlomeno la parte bassa quella monumentale poi c'è la noto alta che invece è pianeggiante questa parte in declivio quando poi fu risistemata nella terza generazione con la base monumentale che noi conosciamo soprattutto dai grandi monumenti avvenne questo che alcuni tratti degli isolati cioè quelli più più in declivio cioè nella parte diciamo un po' più bassa furono completamente rasati eliminati per le nuove costruzioni quindi lì non troviamo granché mentre le parti che stavano nella parte più alta del declivio per ogni isolato quelle si sono conservate ed è lì che abbiamo scoperto i buchi dei pali delle baracche e tutto quello che trovate nel libro quindi grazie alla vostra presenza e all'iniziativa che avete avuto perché avere avuto anche le relazioni di Sgarbi e di Vichelgrà su questi argomenti credo che abbia arricchito ulteriormente il nostro lavoro grazie ringraziamo il professor Guzzardi Lorenzo Guzzardi per questo suo intervento che ci fa capire quanto è stato importante questa interdisciplinarità tra e collaborazione con tra un archeologo e un giurista chi scava nel terreno e chi scava dentro gli archivi e accetto anche la sfida che ha lanciato Michel Gras di fare un lavoro io l'accetto come la punta di vista dell'editore ma il lavoro poi lo dovete fare voi se vi va se avrete tempo di fare una pubblicazione che integri diciamo la documentazione che già c'è ma non così abbondante prima di passare la parola al professor Michele Luminati volevo fare una breve riflessione che mi era venuta frequentando in questo periodo convegni sull'intelligenza artificiale che lasciano tutti un po' interdetti e comunque qualche cosa un po' preoccupati chissà se la domanda che mi faccio ma la lascio così nell'aria se il chat GPT riuscisse mai a scrivere un libro del genere io dico di no quindi ancora fiducia nella ricerca umana e nell'intelligenza umana allora adesso passo la parola a Michele Luminati che è professore ordinario di storia e teoria del diritto presso l'Università di Lucerna si è laureato nel 95 con una tesi sugli aspetti giuridico amministrativi della ricostruzione di Noto quindi la sua passione è antica della città di Noto e ha fondato a Lucerna un istituto di ricerca interdisciplinare che si chiama se non sbaglio correggimi Lucerna Iuris del quale è direttore è stato anche da 2013 a 2016 direttore dell'istituto svizzero qui a Roma prego professor Luminati grazie buonasera intanto io volevo ringraziare i relatori di oggi la fondazione per ospitarci e anche l'editore e tutto il suo team perché il libro va bene ci saranno dentro i documenti ma sono noiosi da leggere il libro è anche stato curato in maniera straordinaria dall'editore e dunque presenta anche delle straordinarie a parte immagini degli scavi anche fotografie di Giuseppe Leone e dunque diciamo potete anche sfogliarlo senza leggere i documenti notarili che in effetti sono forse non così in primo acchitto non così interessanti ma lo sono alla fine poi guardandoli bene sono veramente straordinari perché c'è anche questo fatto che la cultura siciliana non ha mai conosciuto diciamo fasi di stallo per quanto riguarda la presenza del notariato dunque dai bizantini medioevo questa presenza ha permesso appunto di avere una documentazione del quotidiano che per uno storico è favolosa e anche d'altra parte un po' preoccupante perché vuol dire che ci sono tantissimi documenti infatti ne avrei anche altri da pubblicare se vogliamo fare quel volume però questo permette appunto di entrare in un discorso del sociale che si può fare raramente perché abbiamo una densità tale di documenti che ci permette di capire strategie anche nel minimo cioè della singola famiglia del singolo chi investe chi non investe nella costruzione chi acquista chi specula e dunque da lì si capisce poi anche appunto il rapporto tra questo diciamo quotidiano anche fatto di economia di finanze eccetera e la dimensione diciamo grande urbanistica della città stessa e questo penso che sia diciamo un grande una grande fortuna anche è stata di avere non solo uno scavo sistematico ma anche appunto i documenti che hanno permesso sistematicamente di seguire lo scavo il metodo come diceva Lorenzo è stato interdisciplinare nel vero senso della parola perché spesso usiamo questa parola che è di moda bisogna mettere in ogni progetto che si fa perché altrimenti non passa ma poi se si riduce a fare ognuno il lavoro della sua disciplina alla fine ci vediamo tutti insieme a un convegno facciamo un volume collettaneo e ci si chiamano solo per interdisciplinare qui invece il lavoro è stato dall'inizio veramente sul campo interdisciplinare cioè giorno per giorno io ho dovuto imparare a leggere le stratificazioni archeologiche Lorenzo a leggere i documenti notarili dunque partendo da una competenza disciplinare siamo riusciti poi a superarla e a portarla dentro un discorso che è stato veramente nel lavoro stesso del quotidiano è stato interdisciplinare dunque questo come modello anche per ulteriori ricerche per altri centri diciamo del barocco ma non solo io penso che sia un modello a livello urbanistico storico interessante anche per altri fenomeni di ricostruzioni dove chiaramente ci dovrebbe essere appunto una diciamo documenti abbastanza grandi da poter fare questo lavoro dunque sicuramente dal punto di vista modestamente era una situazione ideale per un lavoro veramente interdisciplinare Michel Gras ha citato Castoriadis che noi citiamo nel libro la città è la gente o altrimenti non è e questa è la nostra convinzione cioè nel senso che su noto tanti studi non tutti noi abbiamo chiaramente anche i nostri giganti sui quali ci siamo appoggiati per lavorare abbiamo le opere di Paul Hofer di Steven Tobrin che forse è in collegamento dall'America non lo so mi ha promesso stamattina che forse si collegava i lavori di Corrado Gallo del gruppo francese di Raymond Dufour ci sono stati i lavori che hanno anche guardato oltre il monumento però la tendenza è sempre stata quella per noto di cercare il grande architetto il nome di dia di scavare in archivio per trovare a chi attribuire questo quel monumento e dunque si è trasmessa l'idea anche una città che è nata di getto a tavolino e poi realizzata invece non è così sono voluti cento anni più o meno per realizzarla nella sua forma tardo barocca sono tre generazioni o quattro addirittura sono passate e dunque questo approccio diciamo che esaltava l'urbanistica appunto diciamo sovrapposta a una realtà sociale e l'architettura ha fatto dimenticare che la città appunto nasce da una società che esce da una catastrofe si ritrova ridotta di numero lì chiaramente gioca anche il caso perché se in una famiglia muore il capostipite il barone forse quella famiglia non avrà poi un ruolo cioè perderà posizioni rispetto a un'altra famiglia che avanza dentro la città come per esempio i Nicolaci dunque ci sono anche poi la catastrofe stessa colpisce in modo casuale dunque rimette in questione tutto lo tessuto sociale pensando poi appunto uno spostamento di città cosa abbastanza rara nel quale poi cambiano anche i rapporti tra i gruppi sociali le maestranze in parte scompaiono da noto quelle che c'era una noto antica non tornano alla noto nuova tanti se ne vanno anche alcuni nobili non torneranno dunque e questo mette mette in gioco perché poi ricostruire sullo stesso sito vuol dire che io torno a casa mi raccolgo le mie pietre e mi rifaccio casa ma se si spostiamo la città si può rimescolare tutto quello che è diciamo il discorso dei rapporti di potere della vicinanza al centro e questo si vede chiaramente seguendo poi queste attività se pensiamo alla famiglia Nicolaci che è il palazzo forse più conosciuto e più fotografato di noto quel palazzo non è il frutto di un progetto fatto a tavolino è il frutto di una complessa vicenda familiare economica politica dove praticamente nella prima fase appunto generazione post-sismica c'è una vedova Eleonora Nicolaci che è lei che gestisce l'ascesa sociale della famiglia è lei che compra il titolo di barone per il figlio è lei che essendo molto ricca questa è una famiglia di mercanti di tonno dunque nulla di nobile questi mercanti di tonno hanno potenza economica e dunque riescono a posizionarsi nel centro vicino alla chiesa madre e da lì si fanno praticamente un isolato intero costruiscono quello che si chiama l'isola facevano i monasteri ma per fare l'isola ci vogliono anche gli strumenti giuridici che loro usano i famosi privilegi usati a Palermo appunto per chiudere l'isolato li usano i Nicolaci per praticamente crearsi il periodo del palazzo devono litigare coi vicini dunque poi c'è un aspetto anche politico i Nicolaci poi diventando nobili entrano nel governo di città e da lì possono anche gestire e cercare di orientare anche le decisioni politiche e dopo la nonna Eleonora c'è Giacomo Nicolaci il Gobbo non so se c'era un'immagine sua che passava prima un personaggio straordinario seconda terza generazione post-sismica un personaggio non di periferia astronomo alchimista educato dei gesuiti che se ne va in Francia a fare a Montpellier a studiare l'astronomia che aveva delle nominazioni fisiche dunque era in carrozzella non poteva muoversi chiamato Giacomo il Gobbo il quale praticamente costruisce il suo palazzo secondo le sue visioni e non è il Gagliardi di turno il Sinatra il Labisi che glielo costruisce è lui stesso che immagina quel palazzo e lo costruisce e dunque anche lì c'è questa connessione tra questa dimensione del sociale e l'architettura che poi ne uscirà fuori che è stranissima perché quel palazzo è una conformazione strana che è dovuta appunto a questo allargarsi della famiglia Nicolaci grazie alla sua potenza economica e politica e a fagocitare tutti gli altri edifici sul lotto per avere il quartiere intero a sua disposizione dunque l'urbanistica sì ma l'urbanistica appunto la pianta di noto che sappiamo che Angelo Italia Gesuita che fa la pianta di Avola della città vicina ha fornito è una pianta che ha un potenziale cioè se pensate questi arrivano dalla città distrutta con quattro borsoni e devono stare su un pendio dove non c'è l'acqua hanno problemi di acqua si fanno delle baracque i tetti di paglia nel frattempo però si pensa di costruire non nella parte bassa ma nella parte alta della città che viene pianificata da subito Angelo Italia deve pianificare il pendio in collegamento con la parte alta e crea già dei lotti che poi verranno man mano occupati sono fondamentalmente baracche con giardino e queste baracche con giardino vanno avanti per anni e poi arriva dopo appunto come diceva Lorenzo queste prime costruzioni in parte in tavoli in parte in muris arriva un terremoto forte 727 gennaio anche le date qui contano e paradossalmente questo secondo terremoto è uno shock ma è anche come dice Mario Nobile un collaudo cioè si capisce a livello anche di architettura che cosa funziona come si deve costruire anche da un punto di vista antisismico danneggia moltissimi edifici e uno penserebbe dopo questa seconda batosta rimaniamo o ce ne andiamo rimaniamo nelle baracche no? due anni dopo inizia la fase monumentale e lì poi arriveranno i gagliardi eccetera ma solo dopo e dunque questi passaggi sono molto importanti perché non li vediamo più oggi sono nascosti chiaramente per questo sotto il barocco nascosti ma hanno fortemente influenzato quello che poi è la monumentalità il gagliardi si deve si deve confrontare con Santa Chiara ad esempio hanno studiato con costruzioni che da 30 anni andavano avanti prima di lui e dunque le deve in qualche modo inglobare in parte le distrugge ma le deve anche inglobare dunque non è che ha come si pensava inizialmente sta a tavolino disegna il monastero e lo costruisce deve integrarsi con resti ancora di baracca di strutture e linee che stanno sul sito del monastero e da lì poi parte questa monumentalità dunque Noto ci presenta oggi un'immagine se vogliamo falsa una città appunto nata così di getto tutta con uno stile il mettine style come dice Stephen Tobriner simile ma che dietro nasconde appunto queste stratificazioni sociali dunque e penso che appunto questa dimensione del sociale sia importante per relativizzare forse anche un po' come diceva Michel Gras il discorso di urbanistica di pianificazione perfetta che non c'è quindi c'è un potenziale di una pianta che è Angelo Italia e in qualche modo ha intelligentemente tenuto abbastanza diciamo elastica che permette poi e lì chiaramente c'è un immaginario perché chi occupa un lotto il barone di turno il monastero deve avere già un'idea finale di cosa ne fa cioè lo vede l'edificio ma passano poi 50 anni finché l'edificio 60 anni fin quando sarà poi realizzato e questo è forse un po' il fascino di Noto in questo senso dunque mi auguro questo libro per la sua fortuna e ringrazio nuovamente tutti quanti e buona serata ringrazio Michele Luminati che ci ha fatto anche un capire l'avventura umana e l'avventura sociale di questa città adesso abbiamo terminato visto che purtroppo il collegamento con Paolo Portoghesi non è riuscito mi dispiace però ci abbiamo per consolarci un piccolo rinfresco qui nella sala di lettura qui accanto grazie a tutti per essere venuti grazie